Perché dovresti scegliere Traver Advantaggio per prenotare le tue vacanze? Allora, i motivi sono tanti e io ti elenco quelli più importanti. Ovviamente è un membro, ETOA fa parte dell'Associazione Europea del Turismo e per il nostro posizionamento è super fondamentale. I prezzi degli hotel sono all'ingrosso, cosa significa? Che non ci sono costi di commissione aggiuntive, come invece accade nelle piattaforme pubbliche. Per questo noi abbiamo degli sconti molto alti. Puoi prenotare a 360 gradi tutta la tua vacanza senza andare di qua e là su internet. Ricevi un cashback ad ogni prenotazione da utilizzare per scontare i tuoi futuri viaggi. Supporto H24 7 su 7, super efficace a qualsiasi ora e in qualsiasi momento. E ovviamente ottimo posizionamento su Trustpilot e di questo ne parlerò in un altro video. Se vuoi viaggiare anche tu, risparmiare tempo e denaro, allora scrivi info nei commenti e io ti contatterò.